Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Dwaran Red Come vedete siamo ritornati su CSGO So che vi avevo promesso la settimana, giusto la settimana scorsa Se non mi sbaglio due settimane in un'ora non ricordo bene quando ho fatto un gameplay di CS Che avrei registrato anche diverse modalità di questo gioco Per ora siamo di nuovo su Deathmatch, lo so Ma la prossima volta che registrerò e ritornerò su CS Vi prometterò di fare qualche gameplay riguardante Chi cazzo? Porco Giuda Riguardante altre modalità Che riguardano altre modalità, ho più cazzo Bene, questa è la cosa più importante che volevo dirvi So che di solito dico stronzate tutti i giorni Quindi oggi mi sento buono E cercherò di parlare di meno Sono meno noioso Vi trattere Cazzo, per chi lagga all'improvviso? Questo è scarso Ok, perfetto, ora ho fatto il mio primo punteggio Bene, ragazzi La cosa più bella che volevo dirvi E' che C'è una cosa molto importante che spero che voi collaborare Collaborare Vaffanculo Va bene? Italiano di merda Molto difficile Non potevamo parlare inglese che era più facile Non è vero E' ancora più di pillow Porco Giuda Se ammazzavo anche questo era una bella cosa Come dicevo ragazzi Io sono Che cazzo l'ha vista questo? Oh mio dio Volevo la vostra collaborazione Nel senso di collaborazione Che Riusciate a farmi capire dove sbaglio nei miei gameplay Ovvero Mi dite Guarda Non mi piace questa parte che stai facendo Cioè voglio un po' Che commentiate? Insomma Mettete mi piace Cazzo So piccecato di questo io In pratica mi aiutate Mi supportate un po' Non so Tipo Voglio il vostro aiuto Sto chiedendo In pratica Che nei gameplay Vi dite Cosa sto sbagliando Cosa non vi piace Cosa non vi piace Dei mie gameplay Se sbaglio qualcosa Ditelo Cioè Anche a volte Se vi chiedo aiuto In alcuni giochi Dove mi sono bloccato un livello Aiutatevi Cioè non è che fate spoiler Se mi vedete bloccato Fate un piacere se commentate Ovviamente Se completo quella parte Così in un modo Non fatemi spoiler Però in alcuni casi Che mi trovate Mi troverete in difficoltà O Cercate di aiutarmi Più che altro Vi chiedo solo questo favore Perché Ah quello è un mio alleato Ok perfetto Vi chiedo questa cosa Poi non vi romperò le scate L'ho promesso Anche se dovete lasciare Un semplice mi piace Mi fate capire Comunque l'episodio Vi sia piaciuto O almeno Se no Se no vi sia piaciuto Ovviamente Non c'è bisogno Che lasciate il mi piace Non vi obbligo In qualcosa Che non vogliate Bene ragazzi Cerchiamo di accumulare I punti Come al solito No no Non riavviate il livello Che sto facendo Gameplay Bastardo Ok perfetto Come al solito Dobbiamo rimanere Nei primi dieci Cerchiamo di fare Questa cosa Solo che No cazzo Una mira di merda A volte Muori Sempre una mira di merda Oio Oio Sono diventato Yoda Maestro Yoda Di Star Wars Io capirete Io voglio Io Ma che si blocca Sempre Ogni volta Quando cerco di saltare Ma brutta cosa Che non sto beccando Molti neanche Lo becco Per dove Dietro alle mie chiappe Sai vabbè Questo è un coup Manco mi ha visto BAM Madonna Che palle Queste cose Oggi è proprio Ok mazzato Questo stavo Tante ronde Noi stiamo giocando Vaffanculo C'era un mio alleato Non so Che non ci fosse nessuno Lì Ok questi Questi si ammazzano Questo è interessante St'arma fa male Se Becchiamo i nemici Davanti Ne facciamo molto male Facciamo molto molto male C'è questo abbassamento Di FPS Che mi dà fastidio Infatti ogni tanto I frame si abbassano E l'altro Muori bastardo Due colpi per ammazzarlo Buono Di solito Ce l'ho in una 70 Cerchiamo di vedere Se qualcuno Si è nascosto Perché qui Vaffanculo Vabbè l'importante È che siamo ancora Nella classifica Anche se Non sto andando Molto bene Però Almeno me la sto Cavicchiando Poi i punteggi Sono strani Perché È molto Lenta questa Vaffa Perché stanno Perché Maggio a parte Sono in una squadra Qui È difficile trovare I nemici Infatti Becco uno Dopo ogni centra Mi spara in testa Cioè Le cose belle Prove Come dicevano Ecco Come ammazzare Qualcuno Ok Fatto Double Dobbiamo Trovar Scusami Ora se fosse Una competitiva Ah Volevo anche dirvi Questa cosa Che è importante Mi sono dimenticato Parlando proprio Di competitive Allora In pratica Io volevo fare Anche qualche competitiva Però Il problema Delle competitive È che durano 40-50 minuti Oppure Un'ora Cioè Capita a volte Che Faccio schifo Su serie Faccio schifo Capita che Alcune competitive Durano anche Un'ora Quindi Fare un gameplay Così lungo Non credo Che faccia piacere Ma cazzo Sapevo che Usciva di lì A parte Che Durano Veramente Troppo Io Sarei disposto Anche a fare Delle live Per far vedere Qualche competitive Il problema È che Io ho una Connessione Di merda Cioè Fa molto pena La mia connessione Fare gameplay Con 5 mega Poi Vedere ogni secondo Che si blocca Non conviene Quindi Non posso Nemmeno giocare Online E che Luggerò Come un pazzo Quindi Non ne vale La pena Mi spiace Per le competitive Eh Competitive Competitive Andranno a puttane Quindi Non posso Farvi vedere Cazzo Mi ha fatto saltare Sono spaventato Per un momento Questo camperone Bastardo Di nuovo Questo Ecco davvero Questo è bravo Comunque Questo qui è forte Poi Poi con La bandiera Della Germania Come cazzo Si chiama Castle L'ho detto Se in caso Cambierò Connessione Io sono disposto Anche a fare Delle live Che Mi piacciono Anche di più Comunque Posso fare Giochi Più lunghi Tipo Competitive Di CS Ranked Sull'all Posso Giocare Con Seder King Ci sono molti giochi Che vorrei farvi vedere Ottimo Anche Project Suboide Comunque Due ore Buono Un'ora Un'ora E mezza Comunque Le live Sono diverse Dai gameplay Di Comunque I gameplay Su Youtube Che almeno Dovrebbero Durare 10 Massimo 20 Se vogliamo Esagerare Sono piattaforme Diverse Personalmente Io preferisco Sempre Twitch Però Più che altro Non posso Permettermi Di fare La Allora Siamo quasi Alla fine Di questa Questa Deathmatch Dovremmo trovare Il più amici Possibile E fare Delle Piste Il problema Che non si trovano E quando li becco Mi sparano in testa Alla Alla Vista Anche mi sa Proprio di Cheat Il caso È impossibile Che ha fatto Due shot Uno dietro All'altro O è un pro player Come minimo Dai Svegliati Dai Da questo C'è io Quest'odio Non ti vale Questo Stuputo Di merda Non sa giocare Vuole rompere le palle Che palle Questo Questo Qui fa schifo Troppo Troppo Provo Qualcosa Magico Lo uso Di magia Sintende Cheat Allora 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 Siamo venuti Qui Per sapere Come stai E fu Così Che non Niente Niente Quella volta Che il becco Di solito Mi ammazzano Le poche volte Mi ammazzano Vaffanculo Va Da questo Dove cavolo Stava Vedete Ha detto Anche quello Faccio Cheater Fottiti Cheater Probabile Cioè Non è possibile Ripeto È troppo Pro Per noi È un Cheater Sul serio Però andiamo Che cazzo Tutto questo C'era qualcuno Qui Però non so Dove sia Adesso C'è assurdo Ci sono alcuni tizi Dove cazzo È andato Quello Ok Ha vinto Questo tizio Questo continua A dire Casolciter Casolciter E i bambini Abbiamo i bambini In questa partita Ma poi c'è Uno Zero Zero Diciannove Forse Fk Probabilmente Comunque ragazzi Sono arrivato Nono Solito Gioco Di merda Quando faccio Il gameplay Ovviamente quando gioco Da solo Gioco bene Il gameplay No Devi giocare Una merda Beh ragazzi Questo era L'episodio Fatemi sapere Se questo episodio Vi sia piaciuto La prossima volta Vi presenterò Altre mappe Tra cui Corsa alle armi Poi le altre Non mi ricordo Come si chiama Sinceramente Quelle che conosco meglio Sono Deathmatch E Corsa alle armi Poi quelle principali Che sono le competitive Quindi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti